Benvenuti, benvenuti a questa prima conferenza del ciclo sul riscaldamento globale e i cambiamenti climatici organizzati dall'assessorato alla cultura e dalla commissione biblioteca di Cernusco sul Naviglio. Ringrazio Serena Giacomin che inaugura questo ciclo di incontri, il nostro vice sindaco e assessore all'ecologia Daniele Restelli che mi affiancherà nella condizione di questo incontro. Introduco raccontando brevemente come è nato questo progetto e naturalmente dicendovi qualcosa anche sulla nostra relatrice di stasera, Serena Giacomin. Allora questo ciclo di conferenze si inserisce nei cosiddetti giovedì della scienza che da anni la nostra biblioteca organizza proprio per affrontare tematiche di carattere scientifico. Ha però una particolarità nata su proposta di Carla Datturi che ci tengo a ringraziare vice presidente della nostra commissione biblioteca che ha proposto che il ciclo di quest'anno e anche i prossimi non affrontassero tematiche diverse ma si concentrassero su un unico tema da affrontare e sviscerare però sotto diversi aspetti. Quindi quest'oggi Serena Giacomin ci parlerà dell'emergenza clima partendo dai dati scientifici per raccontarci anche come questa emergenza possa essere affrontata con azioni personali e azioni collettive. Nei prossimi incontri avremo Maria Rosa Giannelli che invece affronterà l'emergenza climatica dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, quindi le risorse idriche, le problematiche legate all'emergenza clima e quindi al problema dell'acqua. E infine nel terzo incontro sempre di giovedì a quest'ora Giorgio Vacchiano ci parlerà invece di foreste e clima, un legame da difendere e rafforzare perché chiaramente le foreste sono un elemento importantissimo per contrastare questa emergenza climatica. Serena Giacomin è già stata ospite della nostra biblioteca in una partecipata conferenza due anni fa in cui ha parlato di meteo perché è fisica dell'atmosfera, climatologa, meteorologa, presidente dell'Italian Climate Network, divulgatrice scientifica, ha scritto dei testi sia per le scuole, dei testi per ragazzi in cui affronta il tema proprio dei cambiamenti climatici e di quello che possiamo fare per contrastarli e mitigarli, per affrontarli soprattutto perché sono una realtà, sono qualcosa che non riguarda il nostro futuro ma che riguarda il nostro presente. Quindi è importante che da subito siamo consapevoli di questa emergenza e capiamo quali sono le azioni che noi dobbiamo attuare per affrontarli. Ci tengo anche a ricordare che lo scorso anno Serena Giacomin, nostra concittadina, ha ricevuto la beneverenza civica del sodoro del comune di Cermusco sul Naviglio e volevo leggere e concludere questa breve sua presentazione con la motivazione che abbiamo dato nell'assegnarle l'onore di Genza Cittadina. Per l'esempio di impegno nella diffusione dell'informazione scientifica e dei temi legati ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale, in un'epoca nella quale soprattutto le giovani generazioni sollecitano la società ad assumere maggiore consapevolezza dei gravi rischi che il pianeta corre e con esso la vita, se non vengono assunte nuove politiche di vita personali maggiormente rispettosi dell'ambiente. E a questo punto chiedo anche al nostro assessore all'ecologia e all'ambiente di intervenire all'inizio di questo incontro. Ci tengo a dire che durante l'incontro attraverso commenti, domande sulla pagina Facebook del comune potrete interagire con la nostra relatrice. Noi dopo la sua prima esposizione le sottoporremo le domande e i quesiti che sono arrivati via via durante la trasmissione. Potrete avere delle riposte. Grazie. Grazie Mariangela di questa introduzione e grazie a Serena Giacomini per la rinnovata disponibilità a portare un po' delle sue competenze e conoscenze nella nostra città. Quello dell'emergenza ambientale, dei cambiamenti climatici è un tema che in questi anni abbiamo più volte affrontato e toccato. Ricordo per esempio la mozione sulla dichiarazione di emergenza climatica e ambientale approvata dal Consiglio Comunale su proposta del Partito Democratico e di Vivere Cernusco, in cui non abbiamo semplicemente voluto fare una grande dichiarazione di intenti teorica, seppur partendo da un presupposto e da una serie di dati e di analisi, ma abbiamo voluto declinare alcuni impegni concreti da assumere come amministrazione e anche da portare a proposta e ad esempio di tutta la comunità, che è un po' quello che ci dirà questa sera Serena, partendo dai dati scientifici da una base che è solida e inconfutabile, smettendo anche alcune fake news che circolano, ci accompagnerà verso un percorso in cui però si parla di che cosa la collettività può e deve fare subito in tema di contrasto ai cambiamenti climatici. Io quindi non voglio rubarvi altro tempo perché anch'io sono assolutamente interessato ad ascoltare quello che Serena Giacomini questa sera ha da raccontarci e sarò qui dietro lo schermo a vedere le vostre domande, le vostre sollecitazioni, come diceva l'assessore Mariani, per poi rilanciarle direttamente alla nostra relatrice. Grazie e la parola a Serena Giacomini. Eccomi, spero mi sentiate bene e auguro una buona serata a tutti voi, passeremo insieme del tempo e innanzitutto volevo ringraziare io voi per l'attenzione che state dedicando a questo tema così importante e attuale come il cambiamento climatico. Abbiamo davvero tante cose di cui parlare quest'oggi e come dice un po' anche il titolo della mia presentazione parleremo, adesso sto cercando nel frattempo se mi vedete un po' impegnata di condividere lo schermo, lo vedete per caso? Ok ce l'ho fatta, fantastico, primo step superato, allora quest'oggi dicevamo parliamo insieme di un tema che è davvero complesso però non nel senso di difficile, certo è anche difficile volendo soprattutto da affrontare, ma è complesso nel senso che è composto da tanti sistemi intimamente legati tra loro, quando si parla di cambiamento climatico in generale si tende a pensare a un problema ambientale, ma in realtà non è così, certo è un problema ambientale, ma è anche un problema sociale, economico, finanziario che va a intaccare la sfera dei diritti, dell'equità di genere, anche il principio di equità intergenerazionale di cui dopo vi parleremo. Ho voluto iniziare questa presentazione insieme anche cercando di dare un contesto alla situazione davvero complicata, difficile da affrontare in cui ci troviamo, che è quella della crisi sanitaria che volendo negli ultimi mesi ha impegnato tutta completamente la nostra attenzione per cercare di reagire a questa situazione nel più breve tempo possibile ed è giusto, è normale, naturale che sia così. Però questo fumetto un po' spiega quella che è la realtà dei fatti descritta anche dalla comunità scientifica, ovvero un'umanità estremamente concentrata nel cercare di risolvere nel più breve tempo possibile un'emergenza sanitaria, ormai sottoposti a queste ondate pandemiche di cui non ne possiamo effettivamente più, ma malamente si accorge, maldestramente, delle ondate piene di difficoltà che possono essere causate dal cambiamento climatico. Uno dei tanti legami del cambiamento climatico rispetto alle altre sfere che vanno a comporre la nostra vita, come dicevo prima, ad esempio quella sociale, economico, finanziaria, la sfera alimentare o la sfera dei diritti, è proprio il legame molto stretto che c'è tra clima e salute e questa non è speculazione comunicativa quella che sto facendo io adesso, ovvero non è che voglio e nessuno dei miei colleghi vuole utilizzare questa emergenza sanitaria per avere un pretesto in più per parlare di cambiamento climatico, non è assolutamente così, tant'è che del legame tra clima e salute se ne parla da decenni. Pensate che il Lancet, che è una delle riviste mediche scientifiche più accreditati a livello internazionale, ha detto nel 2018 che la più grande minaccia per la salvaguardia della salute umana del ventunesimo secolo è proprio il cambiamento climatico. Per quale motivo? Perché ci colpisce direttamente tramite dei fenomeni che possono essere fenomeni meteo intensi, addirittura estremi, ad esempio un'alluvione crea delle vittime, quindi questo ovviamente è un qualcosa che impatta sulla salute e sulla sicurezza pubblica, ma anche a causa delle frequenze delle malattie infettive, questo per tanti problemi di cui si potrebbe parlare per ore, tra cui lo sfruttamento del suolo, la frammentazione degli habitat e la perdita di biodiversità. Nell'incontro che però quest'oggi passeremo insieme in questi minuti cercheremo di capire che cos'è effettivamente il cambiamento climatico, che è un po' il macro insieme e anche il riscaldamento globale, che la possiamo definire un po' la causa scatenante. Questa immagine che vi sto mostrando è un'immagine elaborata dalla NASA, è aggiornata, quindi arriva fino ai dati del 2020 e mostra le anomalie di temperatura a partire dal 1880 fino ad arrivare ai giorni nostri. Intuitivamente le zone colorate in azzurro hanno mostrato nel passato delle anomalie negative, quindi più freddo rispetto alla norma climatica. Le zone colorate in arancione e in rosso sono quelle che invece hanno e stanno mostrando delle anomalie positive. Avrete notato da voi come negli ultimi decenni, parlo soprattutto degli ultimi 30 anni, la tendenza all'arancione al rosso sia diventata estremamente preponderante e spaventa la velocità con cui si è innescato questo meccanismo e noterete anche da voi che in realtà questo meccanismo di riscaldamento globale non sia omogeneo, per cui ci sono delle zone che si stanno scaldando di più e delle zone che si stanno scaldando meno. Certamente una delle zone maggiormente vulnerabili è l'Artico, che si sta scaldando con una velocità doppia rispetto alla media globale con importanti conseguenze. Intanto parliamo di classifiche che sono molto immediate. Quali sono i dieci anni più caldi di sempre, ovvero da quando si prendono delle rilevazioni che sono rigorose e anche confrontabili tra loro, parliamo di dati a partire dal 1880 fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco in questa classifica pensate che fino all'anno scorso almeno compariva il 1996, quindi almeno un anno prima dell'anno 2000. Purtroppo il 2020 non ha tardato e non ha mancato le aspettative negative di riscaldamento, per cui anche il 2020 è entrato in classifica attestandosi al secondo posto. Allora vedete un'anomalia di circa un grado. Cosa vuol dire un'anomalia di un grado? È tanto o poco? Fondamentalmente se domani qui a Cernusco ci saranno 13 o 14 gradi, poco importa, a malapena ce ne accorgiamo, anzi oserei dire che non ce ne accorgiamo per niente. Questo però a livello di media globale vuol dire tanto, vuol dire tanta energia in gioco in atmosfera, energia regalata per esempio ai fenomeni meteo che diventano intensi o addirittura estremi, ovvero fuori statistica, e che possono quindi impattare sul territorio in maniera pericolosa, andando quindi a diminuire quello che è il livello di sicurezza della cittadinanza intera. Questa è la tendenza delle anomalie di temperatura, la vedete da voi, questa crescita, questa impennata verso l'alto, questa impennata verso l'un grado di febbre, insomma pensate di passare tutta la vostra vita con un grado di temperatura in più. Ecco certamente magari all'inizio non vi spaventereste, ma tutta la vita così almeno qualcosa, in teoria qualche soluzione andreste a cercarla. Per completezza dei dati vi mostro anche le anomalie rilevate dalla NOAA, che è la National Oceanic and Artospheric Administration, relative all'anno 2000 e anche in questo caso può essere curioso vedere come non tutte le zone reagiscono, ed è normale che sia così, al riscaldamento globale nello stesso modo. Quando si parla di riscaldamento globale la vediamo sempre con una cosa molto difficile da percepire, no? Sia perché è distribuita nello spazio, tante volte la vediamo lontano sia nello spazio ma anche nel tempo, del resto proprio noi che ci occupiamo di scienze del clima abbiamo da sempre parlato di cambiamento climatico come un problema che futuro in realtà non è così, perché quelli che vi ho mostrato fino adesso sono tutti i dati registrati, quindi non stiamo parlando di previsioni climatologiche, stiamo parlando di dati che grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione siamo riusciti a raccogliere. Bene, questo consideratelo un po' il codice a barre del riscaldamento globale, è una versione più comunicativa degli andamenti che vi ho fatto vedere prima, che è stata descritta da Ed Hawking, che è un climatologo molto bravo e vengono definite le warming stripe, sono molto famose di fatti anche nelle conferenze internazionali sul clima spesso vengono utilizzate per rappresentazioni, però quello che noi dobbiamo cercare di capire oltre al problema in sé per sé è come questo problema va a impattare dal globale al locale, ovvero per ogni stato facente parte del globo terrestre che cos'è che vuol dire riscaldamento globale. Guardate questo video, partiamo prima del 1900 ed arriveremo in giorni nostri, potete vederlo un po' come l'impulso del riscaldamento globale e ogni stato reagisce a suo modo. Allora l'Italia, vedete gli stati sono in ordine alfabetico, l'Italia la trovate a sinistra dello schermo, nella seconda colonna più o meno in mezzo e vedete che ogni stato ha queste pulsazioni, però da pulsazioni negative tutti quanti adesso stanno mostrando delle pulsazioni positive più o meno accentuate, quindi il riscaldamento è globale ma si manifesta su scala locale e allora andiamo a vedere il codice barre del riscaldamento in Italia, prima abbiamo visto quello globale e adesso vediamo il codice barre del riscaldamento in Italia. Passiamo alla prossima slide per facilitare un confronto, sopra vedete il codice barre globale sotto quello relativo all'Italia, allora se io vi avessi davanti in questo momento vi chiederei chi si sta scaldando di più? E voi mi rispondereste l'Italia, come mai? Perché l'Italia purtroppo è considerato un hotspot del riscaldamento globale, per tante caratteristiche la principale è il fatto che si trova all'interno del Mediterraneo, che è un bacino chiuso e proprio per questa sua principale caratteristica tende a scaldarsi molto velocemente, tant'è che il Mediterraneo ha una velocità di riscaldamento delle acque che è 10 volte superiore rispetto alle acque oceaniche e anche il tasso di salinità sta aumentando enormemente. Per gli scettici andiamo un po' più indietro nel tempo, tante volte mi viene fatta la domanda ma intanto il clima è sempre cambiato e non ci sarà mai uno scienziato che incontrerete nella vostra vita che dirà il contrario, certo il clima è sempre cambiato nella Terra, però bisogna capire con che velocità il clima è cambiato nelle varie ere geologiche. Bene, questi sono gli ultimi 2000 anni, questo è il codice a barre del riscaldamento globale, lo notate da voi, qual è la velocità di riscaldamento delle ultime linee che vanno a definire gli ultimi decenni che abbiamo vissuto su questo pianeta. Questa è una rappresentazione più canonica dove ho voluto anche sottolineare dove si trova il periodo caldo medievale e la piccola era glaciale che spesso volentieri nei dibattiti che non ci sono all'interno della comunità scientifica ma a livello mediatico ancora esistono, mi viene da dire purtroppo, in cui si cerca di negare l'evidenza antropica, la causa antropica, quindi la mano dell'uomo, la causa umana alla tendenza al riscaldamento globale e anche in questo caso la vedete qual è la tendenza, no? Questo picco è estremamente veloce, troppo veloce degli ultimi decenni. Andiamo ancora più indietro nel tempo, ce lo permette una scienza che ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni ed è la paleoclimatologia, riusciamo ad andare indietro di 20.000 anni, l'olocene è il periodo in cui l'homo sapiens ha iniziato a vivere sul pianeta Terra, pensate, solo 200.000 anni fa, quindi non così tanto tempo e l'ultimo periodo è l'antropocene, quello in cui si è deciso di dare questo nome proprio per andare a definire quello che è l'effetto delle attività umane su quello che è il clima terrestre, di chi è la colpa? Dei gas Serra il più famoso è l'anidride carbonica, però ce ne sono tanti altri, in realtà li vedremo, ma com'è che si è comportato questo gas Serra negli anni passati? Qua andiamo molto indietro nel tempo, fino a 400.000 anni fa e vedete un andamento della concentrazione di anidride carbonica sempre inferiore alle 300 parti per milione, 300 ppm, così si misura la concentrazione di gas Serra. Ebbene adesso purtroppo abbiamo superato le 400 parti per milione, soglia che viene considerata estremamente pericolosa proprio per l'impatto che questo gas Serra può avere in atmosfera, ecco pensate che le stime basate sui carotaggi oceanici suggeriscono che per trovare un livello di CO2 simile a quello attuale occorre andare indietro di almeno 3 milioni di anni, ovvero nel Pliocene, ecco a quel tempo l'homo sapiens infatti non c'era, c'erano gli astrolopiteco, ecco questa è una ricostruzione della topografia del territorio italiano quando c'era una tal quantità di anidride carbonica, una domanda potrebbe essere ma come mai adesso abbiamo tutta questa anidride carbonica e non ci ritroviamo già sott'acqua? Perché fortunatamente per noi il pianeta terra per reagire ci mette un po' di tempo, per cui in generale questa metamorfosi, questa mutazione, questo cambiamento è un cambiamento che la terra ci permette di fare molto lentamente, molto lentamente per la terra, non così tanto lentamente però per noi. Questo è un elenco dei gas sera principali, ve l'ho voluto mostrare per dirvi una cosa, non abbiamo per esempio solo la CO2 che è l'anidride carbonica, abbiamo anche il metano, perché si parla tanto di CO2? Non tanto perché in termini diciamo di caratteristiche di struttura sia più potente in effetti di riscaldamento rispetto al metano, ma perché ce lo portiamo dietro per 100-200 anni in atmosfera. Questo vuol dire che se domani finiamo di emettere tutta la CO2 determinata dalle nostre attività produttive, in ogni caso vivremmo dell'eredità emissiva degli anni passati e questo è uno dei tanti motivi per cui in termini di azioni di mitigazione di cui parleremo dopo bisogna assolutamente muoversi in fretta. Questo video molto veloce per farvi capire come funzionano i gas serra. I gas serra hanno una struttura tale per cui vanno a interagire con la radiazione elettromagnetica, ecco sbagliato, guardate qua, vanno a interagire con la radiazione elettromagnetica e la molecola inizia ad avere un moto, una vibrazione, ecco è proprio questa vibrazione che non fa altro che rilasciare calore in atmosfera che poi alla fine dunque aumenta in temperatura. Questi sono tanti gas serra come la CO2 o il metano che lavorano proprio in questo modo ed è anche in realtà il meccanismo per cui la nostra terra non è completamente congelata, pensate che senza gas serra la temperatura media terrestre sarebbe di circa meno 18 gradi. Per fortuna ci sono i gas serra quindi perché i gas serra ci hanno donato questo clima così accogliente per la vita umana, il problema è che inizia ad essercene troppo. Qui per esempio c'è l'esempio della Luna che non ha gas serra e quindi ha un clima che è completamente diverso da quello terrestre. Questo invece è l'atmosfera terrestre dove purtroppo queste onde elettromagnetiche vengono portate continuamente al rimbalzo finché l'atmosfera non va a scaldarsi. Noi immettiamo in atmosfera circa 53 mila miliardi di chilogrammi di CO2, di solito non viene espressa così questa quantità, io l'ho voluta rendere un attimo più diciamo intuibile, questa quantità è pari a 5 milioni di torre Eiffel emesse in atmosfera quindi gas serra non sono qualcosa di intangibile, qualcosa che non esiste, sono qualcosa che non solo esiste ma è estremamente studiato da una materia importante della fisica che è il trasferimento radiativo, di chi è la colpa soprattutto, un quarto della fetta della colpa se lo prende il settore energetico ma sono tante le attività che ovviamente emettono gas serra in atmosfera come l'agricoltura, l'allevamento, l'industria, il trasporto anche l'alimentazione e l'edilizia. L'origine antropica, velocemente solo per farvi vedere come la comunità scientifica invece abbia ampiamente dimostrato la correlazione tra l'andamento di CO2 e l'andamento delle temperature negli ultimi anni, al contrario l'attività solare non ha correlazione con l'andamento delle temperature registrate negli ultimi anni, anzi gli ultimi anni sono stati diciamo descritti da un minimo solare per cui al contrario avrebbe dovuto avere un effetto minimamente raffreddante ma di certo non scaldante. Dobbiamo iniziare a cambiare un po' il nostro approccio nei confronti di questi dati che io finora vi ho descritto e mi rendo conto siano dati che è difficile da leggere positivamente ma perché la comunità scientifica si ostina a comunicare in maniera così pesante e quasi ossessiva questi dati perché questi dati devono essere utilizzati come strumento per capire un po' quelli che sono gli errori che è normale compiere nel nostro cammino evolutivo e smettere di compierli per fare delle scelte più consapevoli e anche proprio più evolutive verso il futuro. Purtroppo si fa molta fatica a comunicare il cambiamento climatico perché è un tema difficile da accettare, allora non solo è difficile da percepire perché è un tema lontano come dicevamo all'inizio nel tempo e nello spazio ma ci dà fastidio perché noi non ne vogliamo sapere, abbiamo già abbastanza crisi personali o sanitarie in questo caso da risolvere per cui quella climatica non la vogliamo in nessun modo inserire nella nostra agenda personale delle crisi da risolvere quotidianamente. In realtà dalla consapevolezza potrebbe nascere molto quindi non solo azioni individuali e collettive ma anche azioni politiche a livello comunale, regionale, nazionale e anche sovranazionale estremamente importanti che non solo potrebbero, non dico risolvere completamente il problema ma perlomeno ridurlo ma non solo anche aumentare la nostra qualità della vita. Inutile direi, qua mi sa che ho sbagliato presentazione perché non volevo parlarvi di pinguini all'equatore quindi mi perdonerete se adesso vi faccio girare un po' in lungo e in largo. Datemi solo un secondo. Possiamo fare anche un accenno all'ultima fatica editoriale che è il pinguini all'equatore, non c'è assolutamente nessun problema. Vi assicuro che non ho fatto apposta ma ho un computer nuovo e non sono ancora agile. Allora dicevamo partiamo da il perché non ci vogliamo convincere, perché ci dà fastidio ma non convincerci con tutti i dati che abbiamo attualmente a disposizione è veramente un passo maldestro. Mi è piaciuta la dichiarazione di questo climatologo che ha detto sostenere che la terra non si stia scaldando per colpa delle attività umane solo perché in passato ci sono stati cambiamenti del clima terrestre è come scagionare un omicida portando a sua discolpa il fatto che le persone muoiano anche per cause naturali ed è così. Purtroppo però abbiamo degli esempi di scarsa comunicazione che di certo non aiuta la comunità scientifica che già di per sé alcune volte magari può essere maldestra nella comunicazione di un problema che poi è così profondamente complesso. Allora persone come il presidente, l'ex presidente Donald Trump hanno rilasciato negli anni continuamente tweet dicendo alla prima ondata di gelo ma dov'è finito il riscaldamento globale che qui siamo tutti sotto zero e un caso più recente proprio di poche settimane fa in Russia in questi giorni c'è un freddo che non si registrava da mezzo secolo alla faccia del riscaldamento della terra. Allora qui c'è un po' diciamo una confusione di fondo che forse vale la pena dato che bastano pochi minuti toglierci. Qual è la differenza tra meteo e clima? È una differenza che in pochi sanno ma è fondamentale anche per capire maggiormente il tema del cambiamento climatico. Benissimo allora il tempo meteorologico è un po' lo stato dell'atmosfera descritto tramite tanti strumenti non entriamo nel dettaglio però in generale proviamo a immaginare di fare una fotografia, un'istantanea all'atmosfera del globo quindi su tre dimensioni non solo due dimensioni in superficie ma anche la dimensione in altezza. Tutti questi dati vanno a finire in dei supercomputer che tramite delle equazioni matematico fisiche deterministiche poi calcolano come l'atmosfera dall'istante iniziale potrebbe evolvere negli istanti successivi, sono le previsioni del tempo. Perché ho detto equazione deterministica perché noi le previsioni del tempo le facciamo cercando di determinare la traiettoria, chiamiamola così, dell'atmosfera negli istanti successivi. Dove andrà a finire l'atmosfera? Quindi che tempo ci sarà domani, dopodomani o nel weekend? Il clima invece è qualcosa di diverso, ha la stessa ambizione di voler studiare le caratteristiche dell'atmosfera tramite la fisica e la matematica però innanzitutto una variabile climatica è definibile così solo nel momento in cui abbiamo almeno 30 anni di dati alle spalle, ok? Quindi per esempio la temperatura media di Cernusco sul Naviglio all'11 di marzo è calcolata sulla base di 30 anni, sono dati storici. E per quanto riguarda invece gli scenari, i scenari sono calcolati non solo andando ad analizzare il clima passato e utilizzando i modelli, provando e testando i modelli sul clima passato, ma su base statistica cercando di andare ad analizzare come tutti gli ecosistemi e l'atmosfera potrebbe evolvere nel lontano futuro. La climatologia non risponde a quanto pioverà e dove pioverà di più nel 2055, la climatologia dà una descrizione più sommaria ma altrettanto importante di quello che potrebbe essere il futuro climatico del nostro paese. Utilizzo una menzione di una mia carissima collega estremamente brava Elisa Palazzi, il clima è come se fosse il carattere di una persona, il meteo invece è come se fosse l'umore, quindi questa è un po' la differenza. Non si può dire che il riscaldamento globale non esiste solo perché siamo sottoposti a un'ondata di gelo, perché l'ondata di gelo è un fenomeno meteorologico e un fenomeno meteorologico non definisce in nessun modo una tendenza climatica, quindi spero che questo sia chiaro. Questi per esempio già che vi ho parlato di modelli, vi faccio vedere alcuni degli aspetti che definiscono queste modellizzazioni. Allora fissiamoci sul riquadro global, quindi in alto a sinistra, quella la traccia nera che vedete è la traccia delle temperature registrate, la traccia in azzurro è il modello in cui sono state inserite solo le forzanti naturali al cambiamento climatico al riscaldamento globale, ad esempio le eruzioni vulcaniche in generale hanno un impatto molto forte sul clima terrestre. La traccia invece rossa è quella in cui sono state inserite sia le forzanti naturali che quelle antropogeniche, ecco vedete da voi qual è la traccia modellizzata, quindi rosso o blu, che segue nel miglior modo possibile, oserei dire fitta, l'andamento delle temperature effettivamente registrate è quella in cui sia le forzanti naturali che antropogeniche sono state inserite nel modello. Questa slide è solo per mostrarvi brevemente uno degli studi più importanti relativi alla correlazione del riscaldamento globale con le varie forzanti che vanno a determinare il cambio del clima sul pianeta Terra. Questo studio ha utilizzato sette diversi metodi statistici e si basano anche sulla paleoclimatologia che vi dicevo prima. Queste sono le principali evidenze. Il riscaldamento degli ultimi decenni è senza precedenti nella storia del clima. Il clima è sempre cambiato ma non in modo sincrono e omogeneo nel globo. Ad esempio la piccola era glaciale avvenne in momenti e in luoghi diversi. L'attuale riscaldamento invece è un fenomeno che caratterizza il 98% del globo e solo il fattore antropico spiega il riscaldamento senza precedenti degli ultimi decenni. Solo l'attività vulcanica spiega i raffreddamenti regionali su tempi diversi che hanno caratterizzato la piccola era glaciale. Il sole invece gioca un ruolo del tutto secondario nonostante i grandi minimi di quel tempo. I risultati dei dati paleoclimatici da cui sono state fatte queste ricostruzioni sono in sintonia con le più recenti simulazioni modellistiche del clima passato. Andiamo alla parte più importante. Capito tutto questo abbiamo a che fare con un problema complesso come dicevamo, i problemi complessi e impossibili risolverli con soluzioni semplici. Questo purtroppo ci deve entrare in testa, quindi con tutta probabilità, anzi è così, la soluzione è una soluzione complessa, cosa voglio dire? Anche in questo caso va a riguardare tanti sistemi che sono intimamente legati tra loro e quindi le soluzioni vanno disegnate in modo strategico. Qua sono solo alcune delle soluzioni? Bene a mente, non è completo, manca tanto su per esempio il settore dell'alimentazione e la gestione dei rifiuti, però è importante sottolineare le due armi che abbiamo a disposizione, la mitigazione, le azioni di mitigazione, la possiamo definire l'arma di attacco, ovvero quella che va a determinare una riduzione delle emissioni di gas a serie in atmosfera e l'adattamento. Le azioni di adattamento sono le nostre armi di difesa, quello che facciamo noi per far sì che gli impatti determinati dal cambiamento climatico siano minori possibili e che quindi il nostro territorio e anche le nostre società siano meno vulnerabili. Questa è una bella frase di Ocasio Cortez che è un attivista e anche politica statunitense che spiega un po' qualcosa che ci siamo persi per strada, le persone hanno un po' perso la fiducia nei confronti delle piccole azioni, la fiducia che queste azioni possano effettivamente portare a qualcosa di significativo. Questo cinismo rispetto alle potenzialità delle nostre azioni dobbiamo in qualche modo cercare di eliminarlo perché se è vero e sarebbe non corretto da parte mia dirvi che un'azione determinata a livello internazionale o comunque sovranazionale come può essere per esempio l'Unione Europea ha un impatto molto più significativo rispetto a quello che noi come singoli possiamo fare è anche vero che dal singolo partono tante cose per arrivare poi a una collettività ristretta e poi a una collettività più allargata. Tutte le azioni a tutti i livelli sono importanti e determinanti quindi non solo quella del singolo, quella dei gruppi, quella dei comuni, quella delle regioni, delle province, delle nazioni e delle sovranazioni. Diciamo che un livello non può sopravvivere senza l'altro livello. In questo contesto importante da seguire è l'Agenda 2030 che ha lanciato proprio questa sfida della complessità. Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile sono economico, ambientale e anche sociale e sono anche esse estremamente legate tra loro tant'è che la crescita di una delle componenti senza la crescita delle altre non porta comunque al gol, al risultato quello ottenuto riguardo allo sviluppo sostenibile. Questi sono i tanti obiettivi dell'Agenda 2030 tra cui vedete anche il numero 13 di cui abbiamo parlato quest'oggi, la lotta contro il cambiamento climatico. Parlerete anche di questi aspetti con i miei colleghi che avranno l'incontro nei prossimi giovedì, Giorgio Vacchiano e Mari Rosa Iannelli che vi consiglio perché sono non solo molto competenti ma molto bravi anche a livello comunicativo. Questa è una grafica giocosa per farvi capire come in realtà tutti gli obiettivi siano strettamente legati tra loro e quindi ottenere diciamo dei risultati nell'uno senza ottenere risultati negli altri vuol dire non riuscire ad arrivare a questo concetto complesso di sviluppo sostenibile. Sviluppo sostenibile non vuol dire rinuncia, non vuol dire decrescita, vuol dire semplicemente sviluppo ricordando che se per crescita intendiamo anche un consumo delle risorse infinito, questo è un concetto sbagliato dal punto di vista matematico, nel momento in cui noi ci ritroviamo in un pianeta che in realtà è finito sia nelle sue dimensioni sia nella quantità di risorse che abbiamo a disposizione, il nostro pianeta si sviluppa ma non cresce e così dovremmo fare noi svilupparci in maniera evolutiva ma cercare di crescere ovvero di consumare sempre meno e questa è una bella frase di uno psicologo norvegese che si occupa di come dal punto di vista psicologico noi in generale tendiamo ad approcciarci al tema del cambiamento climatico, ve lo pronuncio male abbiamo tante barriere psicologiche da superare ma lui dice la barriera più grande per l'appunto per risolvere i cambiamenti climatici ha lo spessore di circa sei pollici che è lo spazio tra le nostre orecchie ovvero il nostro cervello. Questo dato che ho iniziato con un disegnino volevo finire anche in questo caso con una vignetta che mostra la timeline del cambiamento climatico fino a qualche decennio fa si diceva il cambiamento climatico non è reale, poi a causa della quantità di dati che la comunità scientifica ha messo a disposizione ormai inequivocabili si è detto sì effettivamente il cambiamento climatico esiste e c'è questo riscaldamento globale così repentino così veloce accelerato ma non è colpa dell'uomo. Poi ancora più dati ovviamente hanno dimostrato a livello scientifico l'origine antropica del riscaldamento globale e tutti quanti stiamo dicendo ops ma non dobbiamo arrivare all'ultimo step quello in giallo non lo preannuncio se no mi arriva un bip istantaneamente e non lo dobbiamo fare non dobbiamo arrivare lì soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Non dobbiamo permettere che la loro percezione arrivi a quel punto sempre per rispettare quel principio di equità intergenerazionale che credo di avervi menzionato all'inizio della presentazione. Il principio di equità intergenerazionale è il principio secondo cui il pianeta debba essere consegnato alle generazioni future in condizioni non peggiori rispetto a quello in cui l'abbiamo ereditato. Ciò si traduce nel diritto delle generazioni future di usufruire dello stesso tipo di risorse e servizi ecologici di cui possono beneficiare le generazioni attuali. Questo è un principio che è inserito anche all'interno dell'accordo di Parigi mi preme menzionare l'associazione di cui orgogliosamente faccio parte Italian Climate Network perché è grazie al lavoro dei giovani volontari che questo principio è diventato così importante tanto da essere inserito all'interno di uno degli articoli dell'accordo di Parigi. Questa è la direzione in cui dobbiamo cercare di andare non solo con la nostra consapevolezza e con le nostre percezioni ma anche con le attività quotidiane che sono davvero tante che noi possiamo mettere in campo semplicemente facendo un po' più di attenzione e senza rinunciare a queste grandi cose che crediamo. Grazie Serena e ci auguriamo tutti di non arrivare al giallo dell'inzionamento perché è già davvero complicato essere consapevoli di avere gli anni contati come si suol dire. Una delle domande che ci fanno gli ascoltatori è Cernusco nel suo piccolo cosa può fare? Tu prima già un po' rispondevi dicendo che ovviamente la responsabilità personale è imprescindibile e poi man mano che crescono i livelli ha più efficacia gli interventi che si possono mettere in atto però conoscendo gli strumenti il livello diciamo di incisività di un'amministrazione comunale e di una comunità in generale un paio di suggerimenti per rimanere un po' sul pratico. Anche perché da cittadina cernuschese conosci la realtà della città e quindi puoi dare anche delle indicazioni più mirate. No no certo allora passando da quello che ciascuno di noi può fare. Allora io credo molto e nonostante voglio dire affronto questo tema lo affronto da veramente tanti anni quindi questo potrebbe causare in qualche modo un po' di diciamo di stanchezza volendo perché è un tema che è difficile da far vivere vedere alla cittadinanza. Io credo molto moltissimo sul fatto che semplicemente con l'attenzione anche all'interno di casa propria si possano raggiungere dei risultati importanti. Io vi faccio degli esempi spero che non risultino banali però in realtà sono degli esempi rappresentativi di molte azioni che noi facciamo non perché siano colpevoli di qualcosa ma semplicemente perché abbiamo assunto delle abitudini che in un certo senso possono sembrare davvero irragionevoli. Esempio banale i tovaglioli. Noi nell'ultimo periodo negli ultimi anni per comodità utilizziamo i tovaglioli di carta e questo all'interno della diciamo dell'area domestica è qualcosa che a livello di risorse non ha senso perché il tovagliolo di stoffa non ci toglie niente in termini di diciamo qualità della vita ma ci permette di non sprecare così tante risorse poi andando a lavare il tovagliolo di stoffa all'interno della lavatrice piuttosto che l'utilizzo della plastica che non deve essere sconsiderato la spesa che deve essere fatta diciamo nella maniera più più sostenibile possibile andando magari a comprare frutta e verdura a Cernusco ce ne sono perché io per esempio ci vado in diciamo negozi negozianti che ti permettono di comprare una frutta e verdura a chilometro zero cercare di utilizzare di più la bicicletta e qui entra in campo il comune cercare di facilitare il più possibile il mezzo a due ruote e lo sharing questa è un'altra cosa che ovviamente è determinante perché tante volte poi non dipende dal singolo cittadino il fatto di cambiare un'abitudine o meno ma ci sono dei casi in cui è l'infrastruttura che ti permette di poter cambiare un'abitudine quindi questo è un aspetto importante il consumo del suolo neanche a dirlo non solo per l'azione di mitigazione che diciamo la superficie vegetativa ha nei confronti del riscaldamento globale ma anche in termini di adattamento è fondamentale io vi faccio l'esempio abbiamo delle stati che sono sempre più calde e tra l'altro hanno diciamo crescono l'estate si sta allargando ovvero tende a diventare sempre più lunga nel tempo inizia prima e finisce dopo purtroppo adesso 32 gradi ci sembrano normali 35 ci sembrano normali ma fino a vent'anni fa non era così avevamo caldo quando arrivavamo i 30 cioè la media climatica tuttora adesso quest'anno le medie climatiche le stiamo ricalcolando ma la media climatica di luglio che è il mese più caldo dell'anno è intorno ai 28 29 gradi di certo non 34 cioè e qua stiamo facendo la fine della rana bollita cioè la rana che finisce nel pentolone con l'acqua calda il pentolone acceso l'acqua si scalda piano piano lei all'inizio sta bene ed è tutta felice poi piano piano perde sempre più energia fino a quando non riesce più a reagire a saltare fuori dal pentolone finisce bollita in questo il verde è fondamentale perché non solo come dicevo prima aiuta in termini di mitigazione quindi di quantità di concentrazione di gassare in atmosfera ma mitiga anche le ondate di caldo quindi un terreno che è di cemento è un terreno che si comporta in maniera estremamente diversa da un terreno che invece è coperto da vegetazione e da alberi questo è fondamentale ma non solo un terreno che è ben strutturato dal punto di vista vegetativo è un terreno che in generale si comporta meglio anche quando abbiamo delle piogge alluvionali e Cernusco non è che non ne abbia mai avute perché adesso io non sono brava con le date perché ce l'ho in testa l'immagine degli allagamenti che abbiamo dovuto subire ecco queste sono delle opere fondamentali di prevenzione di adattamento per far sì che anche le piogge a carattere di nubifragio possano avere degli impatti inferiori quindi tutto quello che riguarda diciamo la mitigazione delle ondate di caldo è fondamentale anche perché noi siamo fuori dall'isola di calore di Milano ma non così tanto fuori non siamo pienamente fuori per cui Milano in generale durante l'estate a 5 barra 6 gradi in più Cernusco è ai limiti ai limiti dell'isola di calore di Milano per cui dobbiamo attrezzarci il fatto di cementificare di non fare un corretto uso del suolo è determinante proprio su questo. Tu stavi parlando anche prima chiaramente della distinzione tra meteo e clima giustamente però è anche vero che questi eventi meteorologici estremi come i nubifragi ma anche i grandi periodi di freddo intenso che fanno dire a certi personaggi che non esiste il riscaldamento globale la frequenza con cui avvengono e l'intensità con cui avvengono sono negativi a questo problema climatico questo lo confermo e hanno una maggiore consapevolezza perché io ricordo anni fa quando invitiamo a Cernusco Luca Mercalli che parlava già ecco si parla di una dozzina d'anni fa e c'era molta più resistenza da parte delle persone ad accettare quelli che sono dei dati scientifici. Adesso probabilmente c'è una maggiore consapevolezza non so se hai questa impressione tu che fai anche interventi nelle scuole eccetera quindi forse soprattutto da parte delle più giovani generazioni. Sì questo sicuramente sì allora per rispondere alla prima parte lo confermo nel senso che non è il singolo evento meteo che stabilisce una tendenza climatica ma la parola chiave è proprio frequenza se si vede che questa frequenza aumenta allora lì si inizia a parlare di clima se abbiamo un tot di dati a disposizione che ci permette di andare indietro nel tempo e calcolarla questo andamento chiamiamolo così Per quanto riguarda la percezione confermo ma anche confrontandomi con i colleghi perché tante volte quella che può essere la mia percezione può essere anche sfalsata dal fatto che io magari parlando sempre di questo tema alla fine mi accerchio di persone che sono sensibili al tema questo problema me lo pongo ma in realtà non è così il movimento del Friday for Future che che se ne dica ha avuto una forza incredibile ma non solo a livello di collettività ma anche a livello politico tant'è che adesso si parla tantissimo anche di Green Deal di transizione ecologica e di tutto quanto allora com'è che dobbiamo interpretare questi movimenti che io so benissimo che alcune volte vengono visti con con il naso storto di questi ragazzi che scioperano vanno a scuola per il clima allora il messaggio principale del Friday for Future con tutto che io credo assolutamente nel valore della scuola quindi questo lo sottolineo per non creare fraintendimenti il messaggio principale del Friday for Future è quello di ascoltare la scienza di ascoltare quelli che sono i risultati scientifici ma loro perché hanno così tanta forza perché hanno messo insieme questa richiesta di rigorosità scientifica ovvero di ascoltare la comunità scientifica ma i giovani rispetto a noi hanno ancora questa entusiasmo e questa capacità di pensare al futuro e di sognare che ha una forza propulsiva enorme quindi mettere insieme il messaggio scientifico a questa voglia di costruire un futuro migliore secondo me è qualcosa di vincente è qualcosa che in un certo senso va assecondato ecco lasciandoci un po' alle spalle questa maniera che con cui troppo spesso forse si è dialogato riguardo al cambiamento climatico no questa diciamo in maniera un po' un po' nera un po' cupa un po' di rinuncia un po' noi siamo fatti in un determinato modo ce ne dobbiamo rendere conto non riusciamo a fare delle rinunce pensando di avere forse un po' meno problemi nel domani se i cambiamenti vengono imposti in questo modo è normale che la risposta sia negativa ci vuole un altro modo anche di imporre i cambiamenti o di chiedere alla cittadinanza dei cambiamenti e deve essere un modo orientato alla costruzione all'evoluzione al miglioramento anche della nostra qualità della vita io dico sempre voi state meglio vivete meglio in una casa che è inefficiente dal punto di vista energetico o in una casa efficiente dal punto di vista energetico in quella efficiente il confort abitativo è nettamente superiore adesso io capisco che ci vogliono degli investimenti ma la questione è anche far sì che la collettività richieda questo gene di investimenti perché la politica non darà mai degli investimenti a qualcosa che non è richiesto fortemente lo sappiamo esatto questo questo è sicuramente una delle chiavi perché la politica può orientare anche i comportamenti ma certamente è anche orientata noi abbiamo fatto investimenti importanti sulle piste ciclabili e per esempio io lo dico spesso in questo anno quando abbiamo messo i portabiciclette qui in piazza sotto al comune a disposizione dei ragazzi delle medie avevamo qualche qualche domanda qualche dubbio abbiamo visto la loro risposta entusiasta e questo ci spinge sicuramente a metterne di più a fare a fare meglio quindi è un equilibrio interessante questo da portare tra anche la domanda di servizi che i cittadini possono fare e le risposte ovviamente dell'amministrazione nel frattempo un'altra domanda che è arrivata dice se c'è qualche nazione più sensibile al problema e che sottintendo io possiamo magari prendere da esempio su comportamenti virtuosi a livello di lotta al cambiamento climatico allora questa non è una domanda semplicissima nel senso che in generale ci sono delle nazioni anche nel nord Europa che sicuramente sono estremamente sensibili ma quello che diciamo spesso volentieri si vede che seguono dei filoni particolari quindi dei progetti del rinnovamento dal punto di vista energetico particolare che vanno quindi ad impattare ad impattare meno poi sul territorio però un po' ognuno lo fa a modo suo adesso non mi viene in me non vorrei sbilanciarmi però per esempio anche l'Islanda ha fatto tante cose anche l'Irlanda ha detto che comunque si sta impegnando e si impegnerà paesi anche come la Svezia però ecco su determinate cose sono molto bravi su altre invece magari devono migliorare un po' è per quello che non mi sbilancio ci sono delle isole comunque nel mondo che sono diventate quasi completamente indipendenti dal punto di vista energetico quindi anche quello è un caso importante anche la Danimarca ha messo in campo dei progetti molto importanti sull'eolico cioè diciamo che la direzione più o meno è quella ma anche perché si è visto e questa sarebbe una parentesi da aprire ma è troppo lunga e complicata che anche investire su progetti legati al green alle rinnovabili all'efficienza energetica ormai ha un indice di rischio nettamente inferiore rispetto all'investimento legato ai combustibili fossili e questa è una dei grandi driver che stanno facendo sì che in realtà anche la lotta al cambiamento climatico sia così cambiata negli ultimi anni perché in realtà il gioco è quello se tu cambi la strada dell'investimento cambia anche il tipo di energia che poi diventa più competitiva a livello economico quindi questa direi che è una cosa assolutamente essenziale certo ecco un'ultimissima domanda diciamo per concludere che è arrivata dice futuri protocolli per combattere il global warming sono previsti oltre all'agenda 2030 che un po' hai già citato c'è qualche documento particolare? guarda il documento più importante è quello dell'accordo di Parigi dice che sappiamo esatto e che tra l'altro vedrà uno step fondamentale nella cop 26 che si terrà il prossimo autunno a Glasgow però ricordiamoci che la pre cop e la youth cop quindi la cop dei giovani è destinata all'Italia per cui sarà a Milano però bisognerà vedere in che forma perché purtroppo ancora non si capisce doveva essere l'anno scorso è stata posticipata quest'anno perché è importante perché in generale tante volte non si capiscono questi meccanismi perché i meccanismi dei negoziati sono anch'essi molto complicati sono anche molto lunghi per cui l'accordo di Parigi in realtà ha bisogno del libro e delle regole che devono essere definite ci sono tanti aspetti ancora da curare quindi per passare al pratico all'attuale questo sarà sicuramente un anno determinante in cui si parlerà tra l'altro anche molto di economia e di finanza climatica Ottimo, lascerei all'assessore Mariani una conclusione e il rilancio del prossimo incontro Va bene, allora grazie Serena, appuntamento al prossimo giovedì con Mari Rosa Iannelli che ci parlerà delle risorse idriche nell'era del cambiamento climatico Ricordo che il video rimarrà disponibile sulla pagina Facebook del Comune e visto che è stato registrato lo caricheremo anche sul canale YouTube della nostra biblioteca quindi chi non potesse accedere a YouTube o non ha potuto seguire la diretta può recuperare il video di questo incontro successivamente accedendo al blog Bibliovoci della nostra biblioteca sul canale YouTube Bene, ringrazio anch'io Serena Giacomin per averci illustrato tutti questi dati e soprattutto per averci ricordato come ormai la scienza lo definisce in modo chiaro i cambiamenti climatici sono in corso e dobbiamo agire ora Un grande ringraziamento alla Commissione Biblioteca per aver pensato questo percorso e a risentirci il prossimo giovedì Buona serata a tutti Grazie, grazie a tutti